Amici di Bracciami ancora, ma voi quando organizzate una grigliata quante scelte fate? La prima scelta è della carne, in questo caso guardate qui che signore bistecche, e la seconda scelta è chi invitare solo amici mangioni e di buona compagnia, ma la terza scelta sapete secondo noi quale dovrebbe essere? Quella del carbone da utilizzare per grigliare queste bistecche, perché in commercio esistono carboni scadenti e carboni di qualità, ecco perché oggi abbiamo deciso di organizzare e di registrare lo spiegone sul carbone, per provare a farvi capire bene come distinguere uno scarso da uno di qualità, uno che durerà poco da uno che durerà tanto. Per fare questo lavoro noi abbiamo invitato quello che a nostro avviso è uno delle persone in Italia più competenti su questo settore, il nostro amico Tommaso, ben arrivato, Tommaso ciao, allora Tommaso la tua famiglia lavora nel settore del carbone da quanti anni? Quasi 40 anni. Beh direi che qualcosa avete imparato insomma, in 40 anni, perfetto. Bene, allora oggi insieme a Tommaso scopriremo tutti i segreti, intanto però volevo dirvi dove stiamo, stiamo da Italy a Roma, nel ristorante Terra che a nostro avviso ha una delle griglie a vista più belle e diciamo scenografiche d'Italia, la carne ovviamente l'abbiamo presa dalla macelleria di Italy, è una fassona piemontese, a questo punto ce la griglieremo su dei carboni scadenti e un'altra bistecca invece su un carbone di qualità. Tommaso se sei d'accordo, la griglia è grande, io la dividerei da una parte il carbone di qualità e dall'altra quello scarso, ti va? Teniamo divise le cose. Perfetto, vai. Allora Tommaso la prima cosa che uno fa quando compra il carbone è quello di toccare il sacco, no? Certo, toccare il sacco, soprattutto il fondo del sacco. Il fondo del sacco, la sentiamo un po', ok, io qui sento dei pezzi grossi. Se il fondo risulta compatto il carbone è già un segno buono. Quindi il fondo deve essere compatto perché di solito che si sente? La polverina? Parecchia polvere, parecchio materiale frantumato. Quindi la prima cosa... È solo dannoso la combustione. Ok, quindi dobbiamo andare a toccare il fondo, ok, in questo caso mi sembra tutto duro. Bene, allora apriamo questo sacco che sono curioso di vedere. Allora, in questo caso abbiamo aperto questo sacco di carbone di leccio, poi apriamo tutto con, diciamo, una parentesi sul carbone di leccio e la prima cosa che sicuramente non si nota è la polvere. Allora, qui non c'è polvere effettivamente. Effettivamente. Ci sono dei pezzi di carbone, eccolo qua. Questo sembra legno, sembra. È legno. È legno, è legno. Allora, alcune cose, quindi pezzi grossi, buon segno. E non c'è polvere, altro ottimo segno. E la terza cosa, mi dicevi, il rumore deve essere... Più suona come un vetro, più è vitreo. Ok. E più significa, questo è indice di una buona cottura del carbone. Perfetto, quindi il carbone... Ok, deve assomigliare a due bottiglie che si... Sui pezzi rotondi lo senti meglio. Perfetto, ok, vai. Il ciliccio è un albero che deriva da... Diciamo, è un parente della quercia, il cugino della quercia. La famiglia è quella della quercia, solo che si presta molto meglio della quercia a farci il carbone perché... Per una differenza di spessore nella corteccia. Passiamo allora a un carbone di minor qualità. Andiamolo a vedere, va, come esce dalla busta. Allora, effettivamente, Tommaso, qui io sento della polvere. Sento come se fosse segatura. Quindi è sinonimo che è un carbone che potrebbe... Se non altro non è di buona pezzatura. Esatto. Non è stato depurato. Ok, non è stato depurato. Lì, apriamolo che sono curioso. Guardate, immondizia. Che ci sta là? Che abbiamo trovato? Questo che è? C'era una foglia dentro. C'era una foglia. Che vuol dire? Che la qualità lascia un po' a desiderare. C'è polvere. Insomma, non è... Beh, direi che la differenza si vede. Qualche pezzetto un po' più grande c'è. Tanta polvere. Ne vogliamo aprire un altro di questi qui? Questo è decisamente ancora peggio. Questo è ancora peggio. Questo è praticamente tutta polvere. Questo è solo polvere. Qui già sono partite le scintille. È tutto uno scoppiettare. Mentre invece il nostro carbone di leccio non sta scintillando. Per niente. Che vuol dire questo continuo scintillare? Ti posso dire che uno dei fattori più importanti è il legno di partenza. Sì. Questo si rivede un po' nella legna d'arbere. La stessa legna di quercia, appunto, simile al leccio non scoppietta, brucia bene, ha una combustione regolare. Mentre invece se provi a bruciare, ad esempio, un pezzo di castagno, questo scoppietta. Ecco, queste caratteristiche delle legname di partenza si rivedono pari pari nel carbone. Ok, allora, in questo caso il nostro carbone, quello più scadente, ha già preso fuoco praticamente, già preso. Scintilla, scintilla, è già preso. Mentre invece, quello, il carbone del professionista, placido, sta lì, lì. Si sente che un rumore c'è, cioè sta prendendo, ma con calma. Questo è indice anche di purezza del carbone. Quindi, allora, il consiglio che tu ti senti di dare è di diffidare da quei carboni che fanno troppe scintille. Si, sicuramente. Diffidate. Oltre a non essere buoni per grigliare, possono essere anche pericolosi, se non utilizzati in ambienti doni. Nel frattempo, noi abbiamo, di fronte a questa griglia, che praticamente è una Formula 1, sembra di essere di fronte a una Ferrari, noi abbiamo aperto i bocchettini dell'aria al massimo per stimolare ancora di più i nostri carboni. Tra mille scintille, guardate, carbone di leccio, le scintille sono veramente al minimo sindacale, carbone di qualità scadente sta... Sicuramente che braccio rosso. Esatto, sembra la notte di San Silvestro, fuochi d'artificio a go-go, e il carbone mediano, che ovviamente in questo caso fa una... diciamo, la fase di scintilla è media. La dimostrazione, insomma, stiamo stressando i vari carboni. Condizione massima di stress. Ragazzi, mille e sei gradi, vi posso assicurare che stare accanto a mille e sei gradi è faticoso, insomma, il calore si sente. Allora, Tommaso, se vede del tuo volto i segni della fatica, qui è tutto, non schioppettare. Allora, tu hai messo in commercio, oppla, questo carbone di leccio italiano, prodotto in Calabria, cioè, tu produci tanto carbone, ma questo è quello di cui vai più orgoglioso. Sì, perché appunto, come hai detto te, è l'unico prodotto 100% italiano che trattiamo e che si trova in Italia. Allora, prodotto delle carbonaie, quelle di una volta, allora, non abbiamo video delle carbonaie, ma Tommaso ci ha rimediato delle foto che vi mettiamo in sovraimpressione in questo video per farvi capire ancora come oggi producono il carbone artigianale. Come veniva fatto una volta, è l'unico modo. L'unico modo poi per avere quel tipo di prodotto. Noi ci beviamo un bicchiere d'acqua perché ci stiamo morendo di caldo e ci rivediamo tra qualche secondo. È passata circa mezz'ora da quando abbiamo acceso il carbone. A destra il nostro carbone di qualità, guardate in che condizioni è. A sinistra praticamente ha esaurito la sua spinta. Ok, 917 gradi. Direi che si può fare. Mentre invece il nostro carbone, quello di qualità un pochino inferiore, è arrivato ai 690 gradi. Quindi la temperatura lì comincia a scendere. Qui si mantiene. A dimostrazione di quello che dicevi prima. Questo è in regime, questo è già in. Vedete, questo è pronto per iniziare a grigliare. Quello è bello che è finito. Diciamo, quella ha la sua forza propulsiva, tra un po' finisce. Forse per una bistecca ce la facciamo. Va bene, vai. E ora si apre la parentesi sulla descrizione della cenere, che anche questo è un elemento importante. Sta indicando. Allora, lato sinistro del carbone di minor qualità, cenere scura. Quindi cenere scura uguale? Combustione non ottimale. Ok, quindi carbone di minor qualità. A destra invece abbiamo una cenere sicuramente più chiara. Molto più bianca nel complesso. E anche la cenere quindi è un indicatore, un indicatore importante di qualità. Allora, a questo punto abbiamo esaurito, credo, tutti i macro aspetti per distinguere un carbone buono da un carbone meno buono. Io direi, caro mio, che se fanno una bistecca, cuociamo. Costata o fiorentina? Che domande mi fai, Michele? Fiorentina? Fiorentina, per te e costata per me. Va bene. Allora, io abbasso però. Sì, io vale. Allora, mi raccontavano gli amici di Italy che questa griglia strepitosa è stata costruita appositamente su misura da un artigiano, da un artigiano spagnolo. Ora, vediamo il nostro mastro carbonaio come se la cava di fronte alla griglia. Noi stiamo per tirare fuori le bistecche dalla griglia, però io voglio farvi vedere la differenza fra la mia griglia, dove praticamente il carbone già ha esaurito la sua potenza di fuoco, e la situazione della griglia di Tommaso. Guardate un po', è tutto un altro aspetto. Secondo me ci siamo. No, se la vuoi al sangue. Che dici, Tommaso è pronta? Mi sembra bella al sangue. Anche troppo colta. A me piace al sangue. Questo è forse anche troppo colta. Anzi, come dico a volte, se muggisce sono ancora più soddisfatto. Se è viva ancora me. Perfetto, allora, adesso te la porziono io. Senti, perché non ti vai, facciamo così, siccome ci sei stato di grande aiuto, se ti accomodi, ce le spariamo sui duti, te le porto io, va bene? Vai, come rifiutati. Oggi fatti servire e riverire, vai. Allora, vi voglio far notare, guardate la crosticina che ha creato il carbone, quello qualitativamente meno performante. Guardate, adesso vediamo il contrasto, la crosticina che ha, la crosticina che ha prodotto il carbone, quello più performante. Perfetta. Una reazione di Maillard strepitosa. Com'è come cottura, ragazzi? Vi piace così? Per me è perfetta. Hai capito il nostro Tommaso? Bravo a parlare di carboni e bravo ovviamente a grigliare. Tommaso, direi che dopo la sudata che ci siamo fatti, se la meritiamo, eh? Allora, buona. Questa è Fassona Piemontesia, che qui da Italy sono specializzati soprattutto nella Fassona Piemontesia. Non mi devi dire una cosa, la più grande soddisfazione da quando fai sto lavoro, o quale è stata? Mangiare sta bistecca. Ah sì? Sto sensando. La tendenza che si sta creando ultimamente della consapevolezza, o meglio, un locale come Italy ha la consapevolezza di scegliere il meglio a partire dal combustibile. Queste sono soddisfazioni. Ah, saluto, Tommaso, tu lo sei meritato. Ragazzi, oggi, ennesima dimostrazione che in questo mondo chi più spende, meno spende. Ed ennesima dimostrazione che bisogna sempre seguire la via della qualità. Ora abbiamo chiacchierato per tantissimo, è ora di mangiare e io mi devo dedicare alla mia attività preferita. Prima di addentrare questo osso, vi saluto, vi abbraccio e come dico sempre che l'abbraccio sia con voi. Ciao! Buona!